A Casellette, gli agenti faunistico-ambientali del Servizio Tutela Fauna e Flora della città metropolitana sono intervenuti per salvare un piccolo di capriolo che era caduto in un canale in asciutta, nei pressi del cimitero del paese della bassa valle di Susa. L'intervento è avvenuto in seguito alla segnalazione telefonica di una ragazza che abita in zona, che aveva notato l'animale in difficoltà. Gli agenti del Servizio Tutela Fauna e Flora sono scesi nel canale per recuperare e salvare il capriolo e lo hanno poi liberato in un campo, dove la mamma lo ha immediatamente raggiunto, portandolo in un luogo sicuro, lontano dalla presenza umana. Sono abbastanza frequenti i casi di cittadini che si rivolgono al Servizio Tutela Fauna e Flora o ai veterinari del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco per consegnare piccoli di mammiferi e uccelli selvatici rinvenuti in zone rurali o montane. Nella maggior parte dei casi non si tratta di animali abbandonati dai genitori. I piccoli non devono essere sottratte alle cure della mamma, che spesso si aggira nei paraggi dei luoghi in cui vengono avvistati. Si deve intervenire soltanto quando i cuccioli, come nel caso di case lette, sono in evidente difficoltà o sono feriti.